allora la messi termine.it riccardo cristiano ci troviamo a croppani per croppani over the rainbow per perse edizione in compagnia di davide sgro e oggi si parlerà del libro che ti vede protagonista ovvero volevo essere la barbie di domenico latino latino vogliamo parlare anche del tuo impegno quotidiano nella lotta soprattutto contro le discriminazioni e per i diritti civili assolutamente sì io sono sempre pronto sempre in prima linea per combattere ogni forma di discriminazione non soltanto discriminazione di genere quindi in questo caso parliamo di omofobia io combatto la violenza in generale quindi sono sempre pronto se volessimo per esempio invitare le persone ad acquistare il tuo libro perché comunque è un libro che parla di te racconta la tua storia di ordinaria discriminazione ma anche di riscatto perché comunque tu ormai sei un professionista sei una persona che è anche affermata non solo sotto il profilo social ma anche sotto il profilo lavorativo tu come inviteresti le persone ad acquistare il tuo libro perché devono acquistare il tuo libro le persone devono acquistare il mio libro non per la mia persona ma per la mia storia perché la mia storia può essere di aiuto alle generazioni future quindi i genitori se vorrebbero fare un regalo al proprio figlio potrebbero regalare il mio libro perché può veramente servire diciamo anche che il tuo libro è stato presentato di recente anche in una scuola quindi perché non invitare anche i docenti ad acquistare questo libro per proporlo perché di discriminazione purtroppo è ancora una tematica all'ordine del giorno e si parte ovviamente dalle scuole quindi tu che sei stato in una scuola avrei visto anche gli studenti rivolgerti assolutissimamente sì è stata una bellissima esperienza io ho presentato il mio libro in varie scuole sia in calabria sia in un territorio campano dove attualmente vivo e quindi sì perché no invito i professori ad acquistare il libro soprattutto i professori di questo territorio qua in questo caso parlo di cropani